Per anni, anni, anni quando abbiamo aperto la Holden incontravo la gente in giro per l'Italia che mi dicevano che scuola, che scuola, ci verrai tanto per i tiri, ma non ho l'età, non ho i requisiti ormai vedevo tutte queste facce passare e vedevo il brillino del desiderio però poi bisognava avere meno di 30 anni per fare la Holden, bisognava stare qui per due anni insomma era tutto impossibile, per cui dopo un po' di anni ci siamo messi lì io e gli altri della Holden e abbiamo detto vabbè bisogna inventare qualcosa per questi qua, perché c'è passione, c'è voglia e abbiamo aperto questa Holden per gli altri, che noi adesso chiamiamo Holden over 30 che è un modo per riuscire a portare gente che effettivamente non potrebbe venire qui tutti i giorni per due anni comunque qui dentro, in questo posto, a tirar fuori quello che per loro è alle volte passione pura alle volte è un debito che hanno per il loro talento, di cui non si sono presi cura per molti anni è gente che si è ritagliata nella vita una specie di parco protetto anche in qualche modo da tutto cioè dalle cose belle e brutte della sua vita, però lì è uno spazio suo, proprio dove semina questa che è voglia di imparare, sogno, alcuni hanno proprio il sogno di poter coltivare un loro talento oppure di avere una strada nella vita che prima non sono riusciti a prendere e lì ecco, con dedizione e pazienza, vogliono lavorare, loro un po' a riparo in un posto che dà energia perché comunque è una scuola piena di ragazzi, loro seguono una strada che fino a quel punto lì c'era nella loro testa ma non avevano mai veramente camminato, riparano quel che noi sappiamo insegnare cioè sostanzialmente lo storytelling, cioè le tecniche per narrare in tutti gli ambiti alcuni di loro fanno lavori in cui questo è molto prezioso altri apparentemente no, ma poi tutto torna come dico spesso della Holden, di qualsiasi Holden quella per gli over 30 o per gli altri, quello che si impara qui è una cosa che ti resta dentro e poi magari ci mette anni a tornare fuori veramente formalizzate adesso sono felice perché vedo nelle facce di questi qui la stessa cosa che vedo nella faccia dei ragazzi che fanno la Holden, quella, il bienio diciamo e cioè questa impressione che sono in un posto in cui c'è energia che stanno restituendo a se stessi un'intensità che loro volevano dalla vita e quindi è una delle ragioni per cui io sono contento di aprire il portone della scuola ogni mattina, il fatto che esista questa Holden per gli over 30